Il Teatro Reggio Siamo pronti a offrirvi alcuni concerti in live streaming Il 27 sera cominceremo una mini stagione Allora io me lo segno solo Sì me lo segno e ci sarò sicuramente Io il 27 sarò interessato a seguire il concerto Voi riportate dal 27 il Reggio nuovamente Diciamo ad esserci e a dire ci siamo anche noi Ci manca tanto anche con i miei abbonati Un rapporto diretto con la musica Con il teatro, con le sedie, con l'ambiente Con tutto